E' stato un 8 marzo davvero speciale quello vissuto al Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana. Al mattino con gli studenti e la sera aperto a tutti, nel foyer del teatro è andato in scena uno spettacolo itinerante legato a donne del passato appartenenti a differenti ambienti e periodi storici. A partire da Andrea, seduta sulla panchina rossa, che ha raccontato la sua vita da casalinga. Poi bastava salire al primo ordine per incontrare Maria Luisa di Borbone con i suoi racconti, ancora un piano per trovarsi di fronte ad una suffragetta che rivendicava il diritto di voto alle donne. Noi siamo qui per lottare per il voto alle donne, ormai sono 50 anni che lottiamo pacificamente per il diritto di voto alle donne, ma tutto questo è stato inutile, siamo state derise, sbeffeggiate, ignorate. Adesso è il momento di sapere che all'ordine dei sacrifici ci devono essere i fatti. Nel ridotto della galleria, Sara e Celeste hanno portato la poesia di Alda Merini e all'uscita è stata Lisa Lucchesi, con la sua delicatissima ma anche possente voce, ad accompagnare i presenti. Poi l'aperitivo, la voce di Tommaso Baldacci a cantare i brani del CD, Ascoltami contro la violenza di genere. Ideatrice del percorso e dello spettacolo teatrale è stata Michela Innocenti. Quello che abbiamo voluto sviluppare stasera è un viaggio attraverso quella che la donna era ieri, sarà oggi e domani, e abbiamo voluto evidenziare alcune figure femminili che altrimenti sarebbero cadute nel dimenticatoio, posizionandoci in un modo diverso, originale. Prima dello spettacolo l'amministrazione comunale guidata da Andrea Tagliasacchi ha voluto ringraziare tutte le associazioni che in questi anni hanno collaborato con l'amministrazione alla realizzazione di eventi legati a tema sociale. Presente in teatro anche una delegazione del Codice Rosa del pronto soccorso di Castelnuovo Garfagnale. È stata sicuramente una bella serata, è un 8 marzo diverso, l'abbiamo voluto così, abbiamo voluto coinvolgere tutte le associazioni del territorio che in questi cinque anni di mandato ci hanno accompagnato delle nostre iniziative.